Salve cari amici di Pimentel, ormai ci siamo. Dopo Sant'Efisio entra giugno. A giugno cosa arriva? L'estate. E cosa arriva con l'estate? Il ritorno di Zio Amos? Avete indovinato. Fra poco cari amici di Pimentel ci rivedremo e finalmente potrò rivedere Nicola, Matteo 1, Matteo 2. Questa volta però è tutto diverso perché quest'anno voglio dare il mio numero di telefono così ci possiamo tenere contatto così almeno uno di loro mi viene a prendere e mi porta nella grande bidda di Pimentel. Finalmente Amos potrà andare a Pimentel a trovare i suoi cari amici bambini e abbracciare tutti con loro. Cari amici ci siamo. Ormai manca solo una cosa. La fine della scuola e poi finalmente potrò rivedere non solo i bambini di Pimentel ma anche Bianca e Margherita, la piccola Martina, l'amica di Bianca e di Margherita e tutti i bambini delle colonie. Quindi cari amici di Pimentel, quindi Bianca e Margherita, prendete appunti. Ci vediamo i primi di giugno nello stabilimento bagnare il ciringhito di Ziaccarla. Il ritorno di Amos. Ok? Ci sentiamo a poc'anzi. Un grande bacione a tutti coloro che mi seguono su YouTube. E mi raccomando ci vediamo i primi di giugno allo stabilimento bagnare il ciringhito di Ziaccarla. Il ritorno di Amos. Ciao.